La Top Volley Lamezia si è presentata alla stampa fra l'entusiasmo dei presenti, oltre 150 persone alla presentazione ufficiale. La nuova realtà pallavolistica Lametina, i nastri di partenza del prossimo campionato di Serie B dopo aver acquistato il titolo sportivo di Rossano, è nata dall'idea di due amici imprenditori appassionati di volley, i presidenti Tommaso Perri e Salvatore Rettura. Si parte subito con grandi obiettivi, riconquistare nel più breve tempo possibile la Serie A2. Per farlo si è deciso di puntare su Candido Grande, attuale direttore sportivo della Top Volley Latina, che fungerà da consulente di mercato, e sulla presenza di Nino Tripodi, presidente storico della pallavolo Lamezia, che ricoprirà invece il ruolo di presidente onorario. Al tavolo dei relatori presenti anche il sindaco di Lamezia Terme, Paolo Mascaro, e soprattutto il vicepresidente nazionale della FIPAV, Giuseppe Manfredi, che ha promesso di portare la nazionale in città non appena il nuovo palazzetto dello sport sarà ultimato. Nel corso della conferenza ha annunciato l'ingaggio di Vincenzo Nacci quale allenatore della squadra. Il tecnico pugliese guiderà la Top Volley Lamezia per le prossime due stagioni. Nella prossima settimana attesi i primi colpi di mercato.